definire team keys dal punto di vista tecnico è veramente semplice team keys è una piattaforma online integrata in multi device capace di organizzare semplificare ma allo stesso tempo e soprattutto di digitalizzare la raccolta e la condivisione di informazioni tra staff e giocatori in altre parole team keys è un servizio utilizzabile anche via web che ha come obiettivo primario quello di migliorare la comunicazione all'interno della società sportiva entrando nello specifico ecco che cosa la modalità comunicativa di team keys porta all'interno della tua società team keys aumenta l'efficienza e l'organizzazione della squadra stimola lo sviluppo ed il perfezionamento dei giocatori migliora la produzione tecnica dei tuoi contenuti riducendo sensibilmente i tempi di produzione in altre parole team keys porterà la tua squadra al prossimo livello ciao 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 ciao